Nessuno vuole modificare la viabilità del lungomare sud di Pescara, a dirlo il capogruppo in comune della Lega, Dincecco, che demolisce il progetto inserito nella delibera 380 approvata dalla Giunta Masci lo scorso 6 maggio. Il progetto prevede che il lungomare sud diventi quasi completamente a senso unico di marcia, con piazza Le Laudi pedonale. Questo quanto stabilito dai tecnici, dice Dincecco, ma in maggioranza siamo tutti d'accordo sul non modificare la viabilità. Non c'è nessuna idea da parte di questa maggioranza di modificare la viabilità in quel tratto di Riviera Sud che noi intendiamo riqualificare perché abbiamo vinto un progetto che si chiama Rigenerazione Urbana e al quale stiamo lavorando. E' stata probabilmente una costruzione di un'ipotesi progettuale dei progettisti che stanno lavorando sulla redefinizione del progetto, ma non c'è nessuna volontà e quindi sgomberiamo il campo da qualsiasi tipo di dubbio o di equivoco. Non sarà così la riqualificazione di Riviera Nord. Non c'è in maggioranza nessun tipo di attrito su questa dinamica perché nessuno la vuole in quel modo. E' stata un'ipotesi progettuale inserita all'interno della delibera, all'interno della quale abbiamo inserito i lavori di riqualificazione della Riviera Nord per via del Giro. Il problema fondamentalmente non esiste, si tratterà solamente di fargli modificare gli aspetti di mobilità di quel tratto lì. Il progetto rientra in un piano di riqualificazione delle riviere dal valore di quasi 2 milioni di euro che derivano dal piano nazionale di ripresa e resilienza. C'è già un'idea di com'è quel tratto di riviera possa essere riqualificato? Quello che a noi interessa è sicuramente l'aspetto della mobilità, che quindi deve rimanere così com'è. Poi è chiaro che valuteremo ipotesi di modifica e di riqualificazione dei marciapiedi e dell'arredo urbano, però fondamentalmente l'aspetto che importa più di tutto è l'aspetto legato alla mobilità. Poi è chiaro che i tecnici quando operano e lavorano, gli architetti, gli ingegneri, magari mettono anche dell'inventiva loro.